Professor Caroni, lei è un noto comunicatore d'arte, crede che sia possibile avvicinare tutti all'arte e che l'arte sia per tutti? No, certamente, prima di tutto le cose bisogna pensarle, cioè come io cerco da fare ormai da molti libri, da molte mostre di questa parte, avere l'idea su quello che si vuole comunicare e come io ho detto, io cerco i primari, i fondamentali del pensiero in figura dell'arte occidentale che sono il viaggio interiore, la linea introspettiva e appunto la rappresentazione del paesaggio, ciò che ho fatto questa sera. Ci ho detto, ma sì, ma certamente tutto, perché tutti non dovrebbero avvicinarsi, insomma, il rapporto con la propria interiorità, il rapporto col paesaggio, cioè con la natura, ce l'hanno tutti e ce l'hanno tutti istintivamente, tutto il compito mio, insomma, il compito anche della gente che lo recepisce è quello di rendersi, come dire, razionale e motivato quello che sente, insomma, proprio perché questi sono dei primari e i primari sono le prime cose che arrivano all'anima di ognuno.